Cari amiche e cari amici, dal sito Nuova Italia Accademia Adriatica di Filosofia, un articolo intitolato «Una mattina mi son svegliato e ho trovato il carro armato» di Marco della Luna. Se a sospenderti il diritto di spostamento, di riunione, di votare, schierando l'esercito con i carri armati nelle strade per intimidire i cittadini, è una partitocrazia che prospera da sempre mangiando sui cittadini, servendo speculatori stranieri, allora è improbabile che questi politici ti restituiscano quei diritti, una volta passata la crisi, perché gli fa comodo per i loro affari tenerli sotto la legge marziale. Renderanno permanenti queste imposizioni, come hanno reso permanenti le accise per il finanziamento della guerra di Etiopia, per la crisi di Suez del 1956. E forse lo chiameranno «Solidarietà nazionale». Se questa classe politica non vieta nemmeno le vendite allo scoperto in borsa alla vigilia di un crollo che poi in effetti c'è stato, allora è dimostrato che in mala fede lavora per gli interessi speculativi per far passare di mano le industrie strategiche. Se poi va a firmare il potenziamento del MES e se la BCE non garantisce subito l'acquisto di tutto il debito pubblico necessario per tenere prossimo allo zero lo spread, impedire la speculazione ed evitare il crollo economico, allora è comprovato che si tratta di un'operazione di terrorismo finalizzata a ingabbiare il paese per depredarlo. E se i dati numerici dell'Istituto Superiore di Sanità, attenzione, se sono veritieri, dovrebbero esserlo, abbiamo 10.000 contagi accertati, un tasso di mortalità del 3,5%, sono 350 morti, morti di Covid-19 o col Covid-19. Insomma, abbiamo 10.000 contagi accertati, un tasso di mortalità del 3,5%, ossia 350 morti contro la media annuale di 10.000 morti con i virus stagionali, numero che non giustifica il blocco del paese. Allora tutto è un pretesto per realizzare due punti di cui ho parlato prima. Se non sono falsi i dati numerici e se quindi sono inattendibili le voci trapelanti da alcuni ospedali secondo cui i reparti sarebbero pieni di giovani con la polmonite acuta, allora la mortalità di questo virus si concentra quasi interamente sopra gli 80 anni, come del resto ci dicono ogni giorno, diminuisce in pochi mesi l'aspettativa di vita dei soggetti colpiti e praticamente non interessa a soggetti non anziani, non gravimenti ammalati di altro. Se poi è vero, come da alcuni documenti ufficiali che circolano nel web, che il virus è prodotto in laboratorio, è brevettato, che presenta caratteristiche di combinazione genetica realizzabili solo in modo artificiale, allora le cose stanno ancora peggio. Molto peggio. Perché questa sarebbe una prova generale per sottomettere la gente nel quadro dell'attuale lotta di classe tecnologica. Se è così, allora è meglio 100.000 morti, un milione di morti, ma non di virus, bensì di resistenza e lotta per la libertà, piuttosto che sottostare. Se però siete italiani, dimenticate l'ultima proposizione e considerate invece che ormai vi hanno tolto anche la usuale via di fuga dell'immigrazione, perché adesso da altri paesi vi respingono come appestati. Siete in un campo di concentramento, dove riceverete il premio della vostra inveterata e invertebrata codardia, codardi. Un pollice su per il mio lavoro, sempre incollati al decimo toro. Un